Torino è una città dove è largamente praticato il rapporto tra l'istituzione e il mondo della sussidiarietà sociale tutto il welfare socioassistenziale è fondato su questo rapporto noi forniamo ogni giorno a Torino, non solo i migranti, a tutti i cittadini 700 servizi circa di carattere socioassistenziale la stragrande maggioranza di questi servizi non è gestito direttamente dal comune il comune è l'interlocutore, il comune determina la regia, le condizioni i protocolli ma poi la gestione è affidata all'impresa sociale quindi è già largamente praticata questa strategia e io credo che sia assolutamente fondamentale perché un welfare moderno ha bisogno di una interazione molto forte tra il ruolo dell'istituzione e il ruolo dei soggetti sociali che si dedicano all'welfare e vale anche per i migranti e vale anche per i rifugiati questi mille rifugiati che noi abbiamo in questo momento a Torino sono quasi tutti gestiti insieme a impresa sociale, terzo settore, volontariato, parrocchie perché noi non abbiamo mille posti letto del comune dove ospitare mille rifugiati sarebbe impossibile, è attraverso la rete che noi gestiamo questa accoglienza lo stesso vale tutta l'operazione che abbiamo fatto di svuotamento del campo di lungo storia Lazio dei Rom che non abbiamo svuotato con le ruspe perché non si risolvono i problemi degli uomini così abbiamo svuotato cercando soluzioni abitative alternative per 600 Rom e tra le, ce ne sono molti tipi di alternative che abbiamo messo in campo una parte è stata individuata e gestita attraverso un rapporto con la sussidiarietà con il mondo delle associazioni quindi da questo punto di vista io, e chiudo penso che Torino è già oggi una frontiera avanzata di rapporto tra pubblico e privato intendendo qui il privato sociale diciamo così più significativo e deve continuare vale per il tema dei migranti vale più in generale per il tema del welfare della nostra città